Che confusione, Sara perché ti fiamo? Ragazzi è un senso di déjà vu costante che sta continuando a proporsi all'interno della mia testa perché soltanto ieri abbiamo fatto il video in cui vi dico che sono ufficialmente stanco di quella che è la situazione di Maria e quindi non è che voglio buttarmi di peso proprio interamente all'interno di questo tweet di Fabiano della Valle perché soltanto ieri vi ho detto sono stanco e che si arrivi a una soluzione che sia dentro che sia fuori ma soprattutto perché tante volte siamo stati qui a ripetere una cosa e cioè entro domenica la Juventus vuole informazioni entro domenica Oggi è domenica, sono praticamente le 6-20 del pomeriggio e finalmente abbiamo una risposta non ufficiale, non arriva da Di Maria, non arriva dalla Juventus ma arriva da una delle giornaliste che anzi dalla giornalista che prima di tutti era riuscito a mettere la voce Vlaovic in cima alle preferenze della Juventus quando sembrava una follia, quando sembrava impossibile in un mercato invernale dove storicamente in Italia la Juventus comunque non aveva fatto mai chissà che cosa e ora Fabiano della Valle dice Di Maria si sblocca, in realtà si sbocca ma è partita una L Juve e il Fideo trattano per gli ultimi dettagli e poi tagga la Gazzetta quello che mi fa ridere tra virgolette perché c'è poco da ridere in tutta questa situazione e vedere come qualche giorno fa proprio la Gazzetta, questa volta non con Fabiana, bensì con Giovanni Albanese è andata in tutta un'altra direzione dicendo che la Juventus aveva abbandonato la pista Di Maria e che non si sarebbe più andati avanti su Di Maria, che la Juventus non avrebbe più atteso una risposta del giocatore e solo ieri abbiamo visto il vidrio di Di Maria che dice voglio godermi le vacanze mi prendo del tempo, ho cenato con della carne argentina e mi sembrava tutto collegato sembrava praticamente fatto apposta poi sul discorso Giovanni Albanese c'è da dire una cosa e cioè che lo stesso Giovanni poi aveva ritrattato, ne avevamo parlato in un video del giorno dopo aveva ritrattato a Sport Italia dicendo che non era una chiusura definitiva quella della Juve bensì un'apertura a visionare anche altri profili perché la risposta di Maria non si faceva, non arrivava, si faceva attendere io sono sempre quella, io Di Maria lo prenderei alla grande ma mi dà un fastidio incredibile vedere quanto la Juventus si sia effettivamente cavata le mutande di fronte a Di Maria perché la Juve è andata ad accontentare ogni singola richiesta dell'argentino e quindi mi auguro che se dovesse arrivare poi che questo possa tornare utile alla causa bianconera perché veramente se dovesse poi arrivare Di Maria c'è da fare una statua a Cherubini arriva bene non tanto per il colpo quanto più per la pazienza perché io mi metto in prima fila tra gli impazienti tra quelli che non sarebbero mai riusciti a portare a termine eventualmente un colpo di questo tipo perché semplicemente mi sarei stancato di aspettare e probabilmente avrei dato davvero una deadline a Di Maria del tipo entro questo giorno sì o no perché secondo me siamo terribilmente indietro e non credo che sia tutto rose e fiori in questo momento il mercato della Juve l'incastro temporale che ci avvicina per forza di cose all'inizio della nuova stagione che è dietro l'angolo perché manca una settimana ragazzi inizio della nuova stagione una settimana 5 giorni all'apertura del mercato 7 giorni all'inizio della nuova stagione e quindi sì potrebbe essere arrivata la fine la parola fine in una delle trattative più estenuanti più stancanti veramente mi ha distrutto moralmente perché io adoro Di Maria ma da sempre è un giocatore che adoro poi inizia a essere veramente nella parte conclusiva della carriera probabilmente l'ultimo grande anno di Di Maria in Europa ad alti livelli io sono convinto che sul campo Di Maria possa dare ancora tanto non ne faccio un problema anagrafico sono quei giocatori che secondo me è difficile riuscire a mettere in dubbio e noi ne abbiamo un bisogno assoluto credevo fosse un po' più serio perché nei primi video che facevo su Di Maria continuavo a dire io non metto in dubbio la serietà del ragazzo io credo che e invece per come si è poi evoluta devo rimangiarmele quelle cose lì poi mi auguro che possa essere più serio il giorno in cui davvero poi firmerà il contratto per la Juve scenderà in campo con la Juve ecco in quel caso mi auguro di vedere un upgrade mi auguro che questo discorso relativo alle vacanze si possa accantonare e mettere da parte però come vi dicevo all'inizio solo ieri il video in cui vi dicevo sono stanco solo ieri il video in cui dicevo voglio una risposta solo ieri il video in cui dicevo è inutile continuare a illudersi di questa deadline e di questa la risposta entro il tal giorno perché quante volte le abbiamo già sentite queste cose è un ritornello scomodo è un ritornello brutto da sentire invece eccoci qua e quindi la domanda per una volta la faccio io una domanda a voi c'è da crederci? perché la legge dei grandi numeri ti porta a pensare che a un certo punto al lupo al lupo forza di chiedere al lupo la gente poi non ci crede più ma quando poi c'è davvero il lupo se gridi al lupo è un problema e allora è davvero arrivato Di Maria? sotto forma di lupo possiamo gridare Di Maria? finalmente possiamo farlo? o è l'ennesima l'ennesimo tentativo di cercare di raccontare una trattativa che in questo momento non ha passi davanti? io conosco Fabiana ho avuto il piacere di lavorare insieme a lei di portarvela anche qua sul canale ed era stata lei a darci anche una conferma definitiva sul fatto che Massimiliano Allegri sarebbe rimasto allenatore della Juventus e proprio lei ci aveva detto ha fatto alcuni nomi di calciatori che la Juventus provava a prendere sul mercato ed erano proprio Pogba e Di Maria quei nomi ricorderete che nelle ultime settimane si era parlato di Allegri non proprio contento del mercato si era parlato di questo anche eventuale possibile plausibile potenziale interessamento del PSG ecco questa notizia Juve di Maria più vicini Juve di Maria verso la fumata bianca Juve di Maria sbloccata si tratta per gli ultimi dettagli va a prendere tutti questi pezzi del puzzle che abbiamo seminato durante queste settimane li raccoglie tutti insieme e mette insieme un quadro abbastanza positivo e cioè la Juventus a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione potrebbe aver concluso finalmente due trattative io più vado avanti e ribadisco lo dico dai stimatori di Maria è più un altro dubbi sull'operazione generale perché non era stata pensata così all'inizio banalmente non era stata pensata con un singolo anno di contratto non era stata pensata con uno stipendio così alto non era stata pensata con così tanta attesa e ribadisco da fan numero uno di Di Maria da tifoso che sogna di vedere Di Maria con la maglia della Juventus qualche dubbio me lo sto portando dietro tanti dubbi perché perché sì perché è un completo mettersi a disposizione del calciatore del ragazzo e è anche una sorta di modo di farti capire che davvero si sta tappando un buco con sì un grandissimo calciatore con qualche anno in più ma è soltanto tappare il buco per una stagione quindi mi auguro che si possa anche cercare di lavorare su questa cosa e mi auguro che sia passata in sordina che si sia lavorato sotto traccia per cercare di convincere il fideo ad accettare almeno due anni di contratto ed è folle pensare di dover cercare di convincere un ultra trentennio a firmare un biennale piuttosto che un contratto di un solo anno però dall'altra parte allora la domanda sorge spontanea perché andare ad acquistare un calciatore e pagarlo così tanto non sovrotare il decreto crescita per tenerlo uno a una sola stagione io sono convinto che Di Maria in campo possa dare tantissimo alla Juventus tantissimo però devo dirvi la verità rispetto all'inizio ora nella mia testa l'operazione Di Maria qualora dovesse concludersi e ovviamente dovesse concludersi con queste premesse ha un valore differente ha un valore differente poi rimango dell'idea che nel momento in cui indossa la maglia della Juve scende in campo fa due numeri due magie mi innamoro cioè andrò a innamorarmi senza ombre di dubbi perché sono quei calciatori a me quei calciatori talentuosi quei fuori classe con quella tecnica con la fantasia mi mandano fuori di testa un brodo di giugiule però devo dire la verità ad oggi la trattativa inerente di Maria forse un pochino mi ha stancato e mi ha fatto ricredere a grandi linee su quella che che è l'insieme perché non mi è piaciuto proprio come come la Juve si è approcciata ribadisco ci sarà da fare una statua a chi ha portato a termine eventualmente questa trattativa perché io naturalmente a quei livelli non ci sarei mai arrivato io non faccio il dirigente della Juventus nella vita io faccio altro e quindi spero che abbiano ragione loro dai ragazzi cerchiamo di portare a termine questa trattativa cerchiamo di iniziare ad aggiungere caselle importanti pedini importanti alla squadra perché c'è un ritardo